Ragazzoni miei bentornati con un nuovo video di FESTA! Questa era intro fatta non so quanti giorni dopo perché quell'altra si era sfogata, era una merda! Quindi ragazzi mi raccomando subitissimo 5000 mi piace per questo video ragazzoni perché oltre che appunto sono contentissimo che vi stanno facendo i video di pesca, sto arrivando a un riscontro molto bello e sono felice, se arriviamo almeno a 5000 like ragazzi portiamo la prossima volta Ciccio quindi il prossimo video sarà sicuro con Ciccio numero 89 a pesca insieme quindi mi raccomando. In più ragazzi mi è venuta in mente un'idea bella per fare una serie ma qui ragazzi dobbiamo superare gli 8000 mi piace perché ragazzi se arriviamo a 8000 mi piace andrò personalmente in un laghetto che mi dite voi ragazzi e farò una giornata di pesca insieme a voi. Quindi quelli che mi consiglieranno il gioco che viene al lago di, ovviamente qualcosa ragazzi di abbastanza vicino a Roma, cioè posso anche uscire fuori ma non di troppo, cioè neanche posso farmi 6 ore di macchina per andare al lago. Mi raccomando me lo fate sapere ragazzi e sceglierò qualcuno di voi per fare questa serie di pesca insieme quindi 8000 mi piace. Possiamo andare dentro in questo video ragazzi perché solamente per la trota gigante che ho preso ragazzi e ho battuto il mio record in assoluto della trota più grande che io abbia mai pescato. Dovete lasciare per forza un like. Adesso buona visione. Eccola, eccola, eccola. Signori, prima trotina. Lancio subito e prima trota stamattina mi sono stanno affamate speriamo. Speriamo. Slamata. Eccola qua. Prima trotina. Allora vi ho posto il libro che fa molto meno freddo dell'altra volta? Ma molto regà, ma poco una cifra. Guadino nuovo, comprate il guadino questo giro regà, poi faccio di tutto. Ancora non ho aperto manco l'altra canna. Porco, manca a far così. Allora io vi faccio vedere come innesco io le camole. Allora, vedete? Me la metto da qui, da sotto la testa. La cerco di mettere per tutto l'amo. Ok? Cerco di tirarla su il più possibile che copre un po' tutto. E poi ne prendo... Ma se è stata una piccolina. Ne prendo un'altra. Da dietro, la testa. E vado a mettere... E la faccio uscire fuori. Faccio tipo questa elle così. Così almeno... La mandiamo a girare. Five minutes later. Ma che mi sta a mangiare. Mi sta a mangiando, mi sta a mangiando. Ha mangiato. Ma non sta a mangiare. Ma non sta a mangiare. Sembra quella bella. Ma non ho capito se... Ma non sto minimamente capendo. Non so se è la mia. Ma mi sta a mangiare. Ma non è la mia eh. In che senso? Presa? È bella. Madonna, ma che cazzo è. Ma è una bestia oh. Madonna di Dio. Ma non è stato a tenare. Io vedo troppo. Ma questa volta che è toccata. Perché mi fa sogliapposire. Porco due. Ma quant'è che... Ma quant'è sta toccata? Regà, io non so se rende. Regà, è una cosa... Regà, è grossissima. Regà, ma questa... Una trota... Enorme. Non so quanto bella. Cioè, vi faccio vedere... Quell'altra che sta sotto, regà. La differenza. Porco due. È immensa. È una cosa devastante, regà. Ma quanto è grossa, porco due. Aspetta, mi sta mangiando. Mi sta mangiando. Mi sta mangiando. Ma ne ho mangiato una trota, regà. Stanno tutte a galleggiante. Eccola qua. E ci siamo. E ci siamo. Let's go, ragazzi. Let's go. E siamo a quattro. Oggi, ragazzi, stanno mandando una bomba. Fermi tutti, eh. Fermi tutti. Dopo pure cambiare la batteria. Ok, mo. Stiamo andando un attimo a divertire, eh. Un secondo. Mi sa che me buttano proprio qua le trote, se vede, regà. Sì, non me le vedeva queste trote, va. Eccole, ragazzi. Beh, tutte su di me, eh. Complimenti. Quindi, mo. Mo tocca ad esempio magno, eh. Questa, come signora, regà, mi sta pescando una marea. Aspetta. Andiamo, l'ho presa qua sotto. Minchia, l'ho presa qua sotto, regà, ve l'ho detto. Proprio qua sotto l'ho presa. Oggi stava un fire. Questa è la quinta. Vabbè, regà, quella grossa vale per dieci, come dico. E posso. Questa è la quinta. Andiamo, sta a mangiare. Sto bene, regà. Piccola mattina, mi sa, eh. Ammi fame. Ma che va a scappare giocherone. Stupida. Oh, ma che se permetti. Oh, regà, comunque stiamo... Allo stesso numero di un'altra volta, eh. Se non sbaglio stiamo a 6. Ah, mi ha stoccato l'amo. E' uscito, si è tornata l'amo. Mastarda. Oh, questa sta incazzata. Ma che te, oh, questa... Questa mi ha sciompa via. E' rimasto l'amo dentro. Eh, vabbè. La rimontiamo subito. Mentre l'anno, neanche il tempo... Neanche il tempo che ho fatto la montatura, l'ho lanciato e mi ha boccato. Madonna, assurdo. Assurdo, regà. Non c'è, manca il tempo di aver fatto la montatura. La montatura? Ho lanciato e mi ha boccato. Bellissimo oggi, ma che... Stanno a 7, 8, quanto che cazzo stavo? Et voilà. E vai. Let's go. Ovviamente, ragazzi, non vi prendo. E non ho pescato l'altra. Ne faccio vedere. Allora, intanto, regà, sta sci, bellissimo sole. Direi anche, meno male, perché da stavolta c'è un po' freddo. Questo è ancora il risultato. Comunque, regà, questa... Cioè, guardate queste piccolette. Io questo è rimasto sbalordito, regà. E non so quanto pesa questa, regà. Ma dopo lo vedevo, però... Stava andando bene, stava andando bene. Allora, regà, neanche il tempo che ho montato il telefono, non ho pesa l'altra. E neanche ho fatto il tempo a cercare la copro, quindi... Eh, vabbè, e dagli è così. Allora, regà, niente. Dopo 40 minuti, pure un'oretta, ne ho fatta un'altra. Ma non so se la copro l'ha registrata sta clip che si è scaricata. Però, regà, porco due. È arrivato quel momento che dormono proprio. Io penso che sarò arrivato una decina di trovate, ma adesso mi faccio una mezz'oretta, una tavoletta, e poi... e poi me ne vado. Però, per me, già la mattina doveva essere conclusa con quel bestione che ho preso. Sono proprio felice. E poi, come sempre, non può mancare, vado, regà. Spanino, callo, casa, sciscia. Speciale! Questo è quello che completa tutto. Non puoi venire a pescare e non lo mangi. Non c'è senso. Buono. A posto, vedi, fisco il panino, fisco a mangiare io e la trovo da bocca. Bravo! Aspettate, però. Questa era la giusta. Eccola qua. Sinceramente, regà, ho perso il punto. Non so... Non so quanto stavo. Ho perso il punto. Per non parlare di quelle stronzze che mi sono scappate. Hanno perso completamente l'interesse di mangiare, assurdo. C'è stato a combattere da non so quanto. La frutta è una patica, tutte le stronzze, tutti i cazzi non lo stanno a fare. No, bordo di... L'ho fatto a scappare un coglione. Non ho fatto mangiare abbastanza. Poi, pure io, stanno a troppo di fretta. Porta scimia. Arriviamo. Oh, bella le giante. non c'è credo. Adesso l'ho fatto a studio io. No, regà. Mi stanno a far scappare tutti. Mi stanno a far scappare tutti un coglione. Eh sì. Stavo a mangiare e poi l'ho vista ha già fatto a scappare. Ammagnato. Eccola. Parco d'uovo, cosa qua sotto l'ho presa? Qua tre, guarda, guarda, faccio vedere una cosa. Guarda come ha preso. Minchia, bordo bordo. Madonna, guarda come l'ho preso. Guarda che roppa. Guarda, guarda. Minchia, tra... tra l'occhio e la bocca. Che bu, assurdo. Regà, niente, siamo arrivati a quel punto da giornata che i trote hanno detto noi se ne andiamo a riposare. Regà, non si vede più una magnata. Guarda, mi hanno fatto una magnata col galleggiante ma proprio stuzzicata se ne sono nati che la bombarda mi stanno a dirgli a prendere il culo. Ok, regà, ho richiuso la prima canna mi faccio gli ultimi lasci col galleggiante e se ne andiamo. Ok, ragazzi, sono tornato a casa perché ragazzi il telefono mi si è scaricato quindi faccio la chiusura adesso. Ragà, io vi ringrazio per questo video spero ovviamente vi sia piaciuto e giornata di pesca incredibile regà, ho preso una trota atomica veramente bella. Infatti qua ragazzi a fianco a me vi lascerò adesso quante trote ho preso di preciso se non mi sbaglio sono 12 12 o 13 non mi ricordo forse non mi ricordo dalle 11 alle 13 non mi ricordo e in più ragazzi la trota quella grossa vi metterò adesso il peso complessivo delle trote che ho pescato e vi metterò anche il peso della singola trota gigante che ho preso quindi ragazzi adesso ve la faccio vedere perché è troppo bella la devo far vedere per forza cioè ragà ma di che cazzo stiamo parlando ma di che cazzo io spero che che si riesce a vedere quanto cioè guardate la mano mia ma pesa una pesa un fottio ragà cioè un bambino è una cosa incredibile porco ragà micchia è grossa è è assurda sono veramente straficissime io secondo me fa più di 3 kg la fa per forza per forza comunque signori questo è terminato spero vi sia piaciuto da questo trotone oh ragà è enorme porco io penso che è il mio record questa per me è la trota più grossa che io abbiamo preso fino ad adesso al laghetto di pesca assolutamente sì quindi vi ho terminato 5 mili like d'obbligo al prossimo appuntamento ciao ragazzi ciao